Ben trovati, un ringraziamento e un saluto ad AITA, associazione italiana Fasici e all'associazione Fasici Toscana al suo direttivo per questo gradito invito. Un saluto a Davide Crovetti, un saluto a tutti voi. Ancora una volta ci troviamo in questa giornata nazionale di condivisione e sensibilizzazione. Per me è un grande piacere e un onore essere qui con voi. Sono Valerio Sarmati, mi occupo di riabilitazione del paziente post ictus, in particolare di riabilitazione neurocognitiva e oggi parleremo proprio della riabilitazione del paziente con afasia. Il paziente con afasia è un paziente che spesso perde le parole, è un paziente inascoltato, però oggi vi vorrei parlare di un altro aspetto che spesso il paziente afasico è anche un paziente invisibile. Com'è possibile? Ve lo racconto con una breve storia di quando ero al tirocinio all'università e assistevo alle terapie condotte dal mio tutor, quindi un terapista esperto di questa clinica romana piuttosto rinomata dove venivano casi molto complessi, casi neurologici e un giorno arrivò a un caso di una signora molto difficile perché aveva un'imiplegia destra, un po' come tutti i pazienti afasici, una forte espasticità, una forte afasia e anche un problema di aprassia. Questa signora era molto complessa, aveva anche una caratteristica, una parola era in grado di dirla, una parola solo, diceva lo dico e lo diceva anche con un'intonazione particolare perché qualsiasi domanda si facesse e lei rispondeva sempre lo dico, lo dico, lo dico, lo dico, come se stesse veramente dicendo qualcosa. E voi sapete noi romani abbiamo tantissimi difetti, uno tra cui è un uso sconsiderato dell'ironia in qualsiasi circostanza e forse in quel caso era in buona fede per strappare un sorriso, per dare un gesto affettuoso, però ogni volta che passava la signora lo dico e diceva lo dico, lo dico, tutti, dal portantino al terapista, l'infermiere, il medico o chi era dell'amministrazione rispondeva dai coraggio, dillo, lei diceva lo dico e loro tutti dicevano dillo dai dillo, forse per strappare una risata però dal punto di vista tecnico questo è uno stereotipo linguistico, è una forma molto semplice, la più semplice che il paziente ha a disposizione che è in grado di utilizzare per comunicare. Ora rinforzarla, ripeterla, non è la scelta tecnica migliore perché rischia di non permettere al paziente di accedere alle forme linguistiche via via più complesse e più adatte al contesto. Quindi tornando alla nostra storia, io ero in attesa che la signora lo dico passasse per le mani di Gino, il terapista e quel giorno ebbi una brutta sorpresa, una doccia fredda perché Gino si rivolse a me e mi disse Valerio è qui che possiamo fare? Niente, lei non capisce quello che diciamo noi, noi non capiamo quello che dice lei, la nostra unica speranza se ce la facciamo è quella di rinforzare il lato sinistro del corpo, quello opposto. Magari questo potrebbe aiutarla a essere più agile nei passaggi dalla carrozzina al letto, dal letto alla sedia. Beh, cari amici, quella per me è stata una bruttissima doccia fredda, è stata una brutta sorpresa perché io ero in attesa che Gino mi mostrasse come io stesso poi dopo a breve distanza di pochi mesi avrei potuto aiutare queste persone e sapere che non c'era speranza è stata per me non solo una doccia fredda, è stata la morte della riabilitazione. Perché dico questa parola forte? Perché quando una persona in difficoltà con dei gravi disturbi del movimento cognitivi e di comunicazione si rivolge a un professionista ebbene è in quel momento che il professionista deve rispondere con la stessa intensità sia di metodo scientifico sia di conoscenze sia di impegno per poter incidere su quello che è il reale problema del paziente. Un paziente che ha subito una lesione nel cervello deve poter ricevere una riabilitazione dove le funzioni del cervello vengono coinvolte, quindi processi mentali, processi cognitivi che sono alla base della costruzione del movimento e della realizzazione della comunicazione. Da quel giorno forse per esorcizzare questa brutta storia di Gino e la signora lo dico, ogni volta che insegno in un corso, in una clinica, in un ospedale o all'università chiedo sempre all'amministrazione di darmi come modello un paziente che mi ricordi lo dico, quindi con un'emiplegia destra, una forte afasia e una prassia, proprio per mostrare, discutere con i colleghi sul fatto che è possibile svolgere degli esercizi in grado di incidere sui processi cognitivi del paziente anche quando manca la comunicazione. Ora qui vediamo molto rapidamente un video che raffigura un esempio di una paziente con un'emiplegia destra, un disturbo del linguaggio e una prassia. Qui stiamo svolgendo un test proprio che mi aiuta a osservare i disturbi aprastici del paziente. Voi lo state vedendo, il video sta mostrando che la paziente deve copiare con il suo braccio sinistro, il braccio buono, tutto quello che faccio io e la paziente lo fa con estrema difficoltà. Vi faccio vedere alcuni movimenti un po' più complessi dove si vede. Io faccio un movimento e la paziente deve copiare il movimento ma non è in grado. Questo ancora una volta ci dimostra che il problema non è nel corpo. Ecco qui sto tagliando con le forbici invece con le mie dita però la paziente non è in grado di svolgere il movimento ed è un movimento piuttosto semplice. Questo ci dimostra che il problema non è nel corpo ma è nelle funzioni cognitive che permettono il movimento e permettono anche il linguaggio. Bene, di questi pazienti ce ne capitano tantissime tantissimi e dobbiamo considerare sempre che ogni paziente è unico quindi ci sarà un problema linguistico grave, medio, sfumato. La stessa cosa per l'aprassia e per il movimento. Adesso io vorrei mostrarvi brevemente perché il mio intervento è quasi arrivato alla fine. Vorrei mostrarvi alcuni esempi di esercizi e sono solo esempi. Esempi perché? Perché ogni paziente è unico e gli esercizi devono essere, diciamola così, costruiti su misura, cuciti su misura su ogni paziente. Ma quello che mi interessa farvi vedere oggi è che è possibile comunicare e capirsi con il paziente anche quando siamo di fronte a un grave disturbo della comprensione e della comunicazione. Per comprendere questi esercizi di riabilitazione neurocognitiva secondo perfetti, una brevissima premessa sul fatto che il movimento, il comportamento che noi riusciamo a vedere, ma anche il linguaggio che noi riusciamo ad ascoltare è il risultato non solo dell'organizzazione di questi organi fonatori o dei muscoli che ci fanno contrarre, ci fanno muovere le nostre parti del corpo, ma il risultato anche di una complessa organizzazione cognitiva. Quindi se io mi muovo in un certo modo è perché so usare la mia attenzione, la percezione, ho una capacità di apprendere, di costruire nella mia testa e rappresentare il movimento e ho l'opportunità di ricordare. Vediamo un esercizio molto semplice, cominciamo con delle cose molto semplici. Qui il paziente deve riconoscere varie altezze che gli vengono posti sotto i piedi. Perché? Perché quando camminiamo stiamo in continuazione misurando la distanza che c'è fra il nostro corpo e il suolo e come la misuriamo. Non la misuriamo con la vista, perché non camminiamo sempre guardando per terra, la misuriamo col nostro corpo. Allora stiamo mettendo sotto il suo piede. Ecco le altezze, io ho messo delle riviste, tanto da fare 3-4 centimetri di volta in volta e poi mettendole a terra faccio chiudere gli occhi al paziente e poi conduco la sua gamba sopra queste altezze. Una volta che il paziente ha sentito questa altezza, quello che farò, visto che non c'è un canale di comunicazione tale da potermi dire è l'altezza 1, è l'altezza 2, l'altezza 3, 4, 5, gli faccio vedere queste figure che voi vedete a sinistra in modo tale che il paziente possa indicare qual è la figura corretta. Questo era un semplice esempio. Qui ce n'è un altro, un altro dove il paziente deve riconoscere questa volta che cosa? Deve riconoscere delle circonferenze fatte con il movimento dell'intero arto superiore. Andiamo direttamente al minuto corretto dove riesco a farvi vedere un po' l'esecuzione. Il paziente è con gli occhi chiusi, il terapista conduce il braccio sul perimetro di questi cerchi e poi sbendando, togliendo la benda al paziente, chiede di indicare sul tabellone qual è stato il cerchio che ha eseguito. Perché è importante, può essere importante un esercizio come questo? Perché pensate che sia possibile recuperare la capacità di muovere il braccio nello spazio se il paziente non è in grado di poter percepire la direzione o la distanza che sta eseguendo con il proprio movimento. Questi sono aspetti prerequisiti che sono fondamentali per la costruzione del movimento. Questo è un altro esercizio per la mano, in particolare per il polso. Quindi io quello che farò con il paziente sarà muovere la mano in diverse posizioni, con le dita verso l'alto, verso il basso, al centro e il paziente senza vedere deve riconoscere in che posizione è messa la mano. Anche qui per lo stesso ragionamento. Pensate sia possibile ricostruire nel paziente la possibilità di manipolare un oggetto, di raggiungerlo se il paziente non riesce a percepire correttamente la posizione della sua mano nello spazio. Andiamo anche qui nel minuto corretto. Eccoci qua. Qui riusciamo a vedere in parte una esecuzione. Dopo aver mosso la mano nelle varie posizioni e qui vediamo che ci sono le varie indicazioni, ho messo dei numeri. A volte il paziente è in grado di poter nominare i numeri in maniera coerente, ma spesso questa possibilità non c'è. Quindi quando noi chiediamo al paziente, ecco qui c'è l'esecuzione in sé. Qui c'è questo cartone che copre la visuale del paziente. adesso sto spiegando e il paziente dall'altra parte, come possiamo vedere dallo specchio, ha tutte le immagini che deve indicare con la mano buona che è in grado di muovere per farmi capire che ha sentito in quale posizione si trova la sua mano. Qui per esempio abbiamo le immagini che poi ritagliamo e mettiamo sul sul tabellone che il paziente deve deve indicare. Questi sono dei semplici esempi, non vogliono essere esaustivi, però solo per dare un'indicazione che anche quando non c'è l'opportunità di poter comunicare direttamente, anche semplicemente dicendo sì o no o dei numeri, è possibile costruire degli esercizi in grado di incidere sui processi cognitivi anche attraverso l'indicazione se utilizziamo delle strategie. Vi ringrazio ancora per l'invito, per l'attenzione e vi auguro una buona continuazione.